Buonasera e benvenuti al nostro Tg di inizio settimana, domani 20 dicembre alle 18 presso la Casa della Cultura nella Porta della Terra di San Salvo si terrà un convegno dal titolo luoghi di passaggio, città di confine, l'importanza delle vie di comunicazione nello sviluppo di un territorio dai tratturi alle nuove arterie di collegamento organizzato dallo studio tecnico Newark Engineering. Prendendo spunto dalla presentazione della mostra allestita lo scorso anno in occasione della Biennale di Architettura svoltasi a Pescara presso l'Ex Aurum, in collaborazione con lo studio CESAT del professor Di Rico, la Newark Engineering analizzerà da un punto di vista storico ed economico l'esperienza dei tratturi e dal loro esempio si tenterà di compiere un'analisi sulle attuali vie di comunicazione presenti nel nostro territorio. I relatori saranno l'architetto Agostino Monteferrante dello studio Newark, il professor Beniamino Di Rico, docente del corso di urbanistica e pianificazione del territorio nella facoltà di architettura di Pescara dello studio CESAT ed il professor Sandro Colagrande, docente del corso di strade e ferrovie ed aeroporti della facoltà di ingegneria dell'Aquila. La presenza dei tratturi sui territori da essi attraversati determinarono la costruzione di opifici, chiese, taverne e fiorenti centri abitati, assi viari fondamentali che determinarono lo sviluppo di un territorio che si estendeva dall'Aquila fino a Taranto. Dopo il convegno in Piazza San Vitale, nei pressi della chiesa, verrà acceso il tradizionale fuoco di San Dommaso. Ci spostiamo ora a Gissi, dove sabato scorso c'è stato il presidio degli ex lavoratori della Golden Lady. Alla manifestazione davanti allo stabilimento erano presenti in 200, tra cui i rappresentanti della regione, della provincia, dei comuni del Vastese, gli esponenti di CGL, CISL, Will, Slai Cobas, RSO Locale, il Comitato Avast e di partiti di rifondazione comunista ed alternativa. Noi abbiamo ascoltato due lavoratrici che hanno rilasciato proprie interviste ai microfoni di Antonino Dolci. Vediamo il servizio. Si è tenuto sabato mattina, davanti allo stabilimento della Val Sinello, il presidio degli ormai ex dipendenti della Golden Lady. In un clima reso ancora più gelido dalla situazione di precarietà permanente, era presente anche la politica. Il consigliere della regione Abruzzo, Nicola Argirò, il presidente della provincia Enrico Di Giuseppe Antonio, il capogruppo del PD in provincia Camillo D'Amico, il sindaco di Gissi Nicola Marisi. Tutti hanno rimarcato l'impegno per una soluzione nel breve periodo. A per i lavoratori è ormai difficile credere a queste parole, molte delle duali già sentite. Una storia iniziata anni fa, con le voci di una possibile chiusura, la drammatica conferma, la cassa integrazione, una riconversione più volte annunciata che però non si materializza. Lo smantellamento dei macchinari e la delocalizzazione in Serbia, la proroga di due anni della cassa integrazione. Sono precise le accuse nei confronti dell'imprenditore Derassi, proprietario del gruppo Golden Lady, aver messo in stand-by la vita di 380 famiglie dell'area vastese. 380 lavoratori che si ritroveranno ogni ottimo sabato del mese che potrebbero far dimenticare la propria situazione. Io lo invito a ritornare in Italia per produrre in Italia, fare un pochino meno profetti e non lasciare in mezzo alla strada migliaia di persone di famiglie. È il futuro del giovane, dei vostri impegni, perché i tuoi figli hanno avuto un futuro migliore degli altri, grazie al vostro lavoro. ...mi abbiamo sempre prodotto, noi ci troviamo con le spalle al muro. Queste parole di oggi dei politici ci teranno? Non crediamo, speriamo, sarà... E quanti anni ti è lavorato la Golden Lady? 35. 35 anni ma per andare in pensione è inutile, siamo rimasti in mezzo a una strada. Quanti anni ti hai lavorato? Sono 18 anni che lavoro qui dentro, senza figli, non ho fatto mai un giorno di malattia, come si dice che le lavoratrici Gold and Lady sono assenteiste, mai fatto un giorno di assenza. E adesso ci ritroviamo senza lavoro, purtroppo. Tante parole da parte dei politici ci crede? No. Ci spera? Sì, speriamo che con questa nuova legge che faranno, che ci sta a mondi, che vuole risanare l'Italia, vediamo un po' con questi tecnici che ci sono. Le macchine che sono italiane vanno via e togliono il lavoro a noi. Come facciamo a pagare le tasse? Come lo facciamo a pagare? Sono stati aggiudicati alla ditta 2R di Furci i lavori di sistemazione della strada provinciale 175 che attraverso il centro abitato di San Buono. I lavori dell'importo di 268 mila Euro prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale e l'adeguamento dei sottoservizi. L'intervento viene finanziato attraverso un mutuo acceso dalla provincia e prenderà il via nella primavera del 2012. Oggi 19 dicembre, ricordiamolo, al centro di San Salvo parte il mercatino delle meraviglie di Natale organizzato dalla Confesercenti, faremo un servizio, intervisteremo gli ambulanti, gli esercenti e ve lo proporremo domani. Sempre oggi e sempre qui a San Salvo, questa sera alle 19.30 presso il ristorante Vecchio Casale ci sarà la festa con l'annessa cena di San Salvo Democratica. È ancora possibile prenotarsi al 328 63 79 117, la cena costerà 20 Euro. Ora passiamo allo sport, iniziando dal rugby, si è chiuso con una sconfitta tutto sommato contenuta il 2011 del vasto rugby, gli arciglioni sono stati sconfitti per 3 a 37 dall'amatori Teramo nella gara valida per il nono turno di campionato di C regionale. Il match è stato disputato ieri domenica come di consueto nel campo del circolo tennis di San Salvo Marino. Ancora una volta inizio shock per i padroni di casa, costretti a subire una meta nel volgere di pochi minuti dopo un primo quarto d'ora di assestamento, però gli arciglioni hanno saputo rendersi pericolosi in attacco senza tuttavia segnare punti. L'amatori Teramo sulla costa con maglie bianco-rossi ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 20 a 3. per i padroni di casa, merito dell'estremo barattucci, capace di infilare tra i pali l'unica occasione avuta dalla piazzola. Sconfitta casalinga pure per la BCC Wally San Gabriele di Vasto, ma grande soddisfazione per il punto conquistato al cospetto della prima in classifica New Wally Gricignano. Alla vigilia sarebbero stati in pochi a scommettere su un risultato del genere, ma Deliquadri e i compagni hanno dimostrato che quando non commettono errori e disattenzioni riescono a giocarsela alla pari con chiunque. Nell'ultima gara dell'anno solare, nel 2011, sono le padroni di casa ad avere il giusto impatto sulla gara riuscendo a conquistare il primo set grazie ai buoni attacchi di Deliquadri e di De Marinis. Ma le ospiti non ci stanno e iniziano ad imprimere il loro ritmo alla gara nel secondo e terzo set nonostante una buona prestazione difensiva delle vastesi sono le campane ad avere la meglio da registrare le buone prove del libero Gaia Bernardini e della schiacciatrice Roberta Mileno punti di riferimento dell'Under 18 che questa sera hanno ben figurato anche in prima squadra. E ora finiamo con la ricca pagina calcistica. Iniziamo con il campionato di calcio di eccellenza dove il Vasto Marina nell'anticipo giocato sabato ha travolto per 5 a 1 in trasferta e il Casalincontrata con la doppietta di Galasso i gol di Sputore, Soria e Lupo. Il San Salvo invece è incappato in un pareggio a reti bianche nella gara casalinga di ieri pomeriggio. In virtù di questi risultati il Vasto Marina vede avvicinarsi la zona playoff con ben 29 punti mentre il San Salvo si porta al di sopra della zona retrocessione con 17 punti. Le due squadre torneranno in campo prima della sosta natalizia giovedì 22. Il Vasto Marina sarà impegnato in casa contro la capolista Miternina mentre il San Salvo andrà in trasferta contro la Spallanciano, ultima in classifica. In promozione non passano un buon momento le squadre del Vastesi. Il Real San Salvo rimedia un doloroso 5 a 0 a Cepagatti contro il Torre Alex mentre la Virtus Cupello è sconfitta dal Rauretum per 0 a 2. Per la squadra cupellese si tratta dell'ultima partita interna lontana da Mure Amiche. Nella seconda parte della stagione infatti giocherà sul nuovo campo in erbetta sintetica inaugurato sabato. In classifica il Real San Salvo occupa il penultimo posto con 12 punti mentre la compagine cupellese è addirittura ultima con 10. Nel turno infrasettimanale di giovedì 22 dicembre si giocherà a San Salvo l'importante sfida salvezza Real contro Virtus. Ora arriviamo alla prima categoria nel nostro girone B la San Paolo Calcio Vasto pareggia per 0 a 0 contro il Quadri e si porta al terzo posto con 23 punti insieme a Fossa Cessi e Castello 2000. Il Trigno Celenza invece ne segna due ma ne prende sette dalla capolista assoluta Perano resta in zona play-out con 15 punti. Stessi punti per l'Audax Palmoli che perde fuori casa contro il Fossa Cessi e per 2 a 0 infine il Rocca Spinalveti ferma 8 punti ma con una partita in meno visto che quella di ieri è stata sospesa e si trattava dell'ultima partita del 2011 ora la prima categoria si ferma per ricominciare l'8 gennaio. Ci voliamo ora in seconda dove si è concluso ieri il girone di andata del campionato con il Real Tigre Vasto che si laurea campione d'inverno avendo battuto lo United Coupello per 2 a 1. Sempre ieri si è disputato il derby tutto San Salvese tra Sporting e Simone Piccirilli il risultato è di 2 a 1 per lo Sporting in gol con Di Gregorio e Chioditti mentre il momentaneo pareggio del Simone Piccirilli porta la firma di Bevilacqua. spicca il 7 a 1 del Torre Bruna ai danni del Montazzoli netta la superiorità dei torresi ma da un certo punto in poi il Montazzoli ha rinunciato a giocare in piena contestazione contro l'arbitro. La classifica è guidata dal Real Tigre a 32 punti ed è chiusa da Lentella a 7 il Simone Piccirilli a 4. Si chiude così il girone di andata si tornerà in campo il 15 gennaio. Chiudiamo davvero ora la pagina di calcio con la terza categoria dove nell'ultimo turno prima della sosta natalizia il Fresa Calcio conferma la propria superiorità battendo in trasferta il Togliola risultato mai discusso e Biancorossi che vincono per 3 a 1 con una doppietta del bomber Fabio delle Donne e la rete di Riccardo Duc. Il Fresa Calcio è più del 2011 primo in classifica con 24 punti inseguito dall'incoronata a 21. I Biancorossi nel nuovo anno potranno contare sull'apporto del forte centrocampista Ottaviano Fresano Doc e di ritorno dalla Virtus Cupello di promozione. La terza categoria riprenderà l'8 gennaio e con questo è tutto. Arrivederci a domani.